ciao a tutti il desiderio di sapere qualcosa in più sugli argomenti che tenterò di raccontare oggi mi è nato dalla lettura del libro l'ultimo rebetico del quale parlerò fra poco e dal film che da esso è stato tratto useri zizanis sia il libro che il film hanno aperto la mia mente alla conoscenza di storie affascinanti ma anche drammatiche che hanno per protagonista salonico una città che da sempre nel mio cuore o bella salonico o nostalgia delle tue magiche serate sei l'orgoglio del mio cuore dolce e bella salonico e anche se vivo nella seduttrice atene canto per te tutte le notti ho vissuto i miei più dolci attimi nei tuoi stretti vicoli ho intonato serenate mille notti per tutti i cuori bohemian mi tieni sempre fra le tue braccia sempre ti ricordo e soffro e se ora sono un poco lontano col tempo tornerò vicino a te sono le parole di una bellissima canzone o morfi fessalonichi testo e musica di vassili zizanis un grande della musica popolare greca scritta nel 1950 quando l'artista il compositore musicista viveva ad atene dopo però essere stato per molti anni ad essere vissuto per molti anni a salonico del quale conservava la nostalgia e il ricordo struggente per parlare di questi argomenti mi farò accompagnare dal da alcune immagini da alcune slide che adesso facciamo partire la innanzitutto la collocazione di salonico nel nord della grecia per posizione geografica al centro del golfo che ne porta il nome e che si affaccia sul mare geo per vicende per figure storiche che vi hanno gravitato la città di salonico ha una lunga plurisecolare storia che risale fino ad alessandro magno al regno di macedonia di cui fu uno dei centri più importanti crocevia fra occidente e oriente è una città molto bella i greci la chiamano omorfi poli omorfi tessaloniche il titolo della canzone di zizanis del quale continuerò a parlare successivamente appunto città bella le si rivolgono come ad una affascinante fanciulla protagonista di tante altre canzoni che ne descrivono lo splendore e la monumentalità e che possiamo vedere in nella seconda immagine salonicco la capitale dei balcani come omaggio personale alla tanta bellezza ho voluto intitolare questa breve chiacchierata salonicco la bella capitale dei balcani le vicende di cui parliamo oggi hanno inizio e causa nel 1492 in particolare con l'editto dei re cattolici di spagna Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona anche questi nella nell'immagine i re cattolici di spagna che con il decreto di granada detto anche della lambra mettevano al bando da tutti i territori ispanici gli ebrei e i mori che non si fossero convertiti al cattolicesimo attraverso il tribunale dell'inquisizione ne fecero arrestare torturare ardere vivi a migliaia altrettanti furono costretti ad espatriare da un paese in cui avevano conosciuto grande sicurezza notevole prosperità economica grazie alla loro proverbiale intraprendenza sicilia sardegna napoli navarra provenza seguirono presto l'esempio spagnolo e a metà del diciassettesimo secolo gli ebrei erano stati espulsi da quasi tutta l'europa occidentale quelli convertiti al cattolicesimo o rimasti in clandestinità conservando segretamente i loro riti dietro una facciata falsa di cattolicesimo furono definiti marrani in spagnolo maiali dal parola che ha origine dal dalla della parola araba che vuol dire infedele o impuro molti erano convinti che era stato un errore che fosse stato un errore cacciare persone così laboriose industriose e capaci di fare denaro l'espulsione degli ebrei si inquadrava però in un'ampia lotta di potere fra islam e cattolicesimo una contesa per la riunificazione dell'impero romano tra le due grandi religioni monoteistiche i monarchi spagnoli cattolici da una parte e i sultani ottomani eredi dell'impero romano d'oriente dall'altra che sfruttavano a loro vantaggio i provvedimenti antisemiti cristiani accogliendo gli ebrei che fuggivano carichi di conoscenze di esperienze e di abilità il mediterraneo ha rappresentato durante i secoli e fino a oggi un punto di contatto tra antichi tra antiche civiltà e religioni che si sono vicendevolmente influenzate arricchite durante la loro lunga storia tra le città mediterranea con i loro porti come luoghi d'incontro un'altra ben conosciuta per la sua multiculturalità e tolleranza è Ragusa la croata Dubrovnik sull'Adriatico con minoranze ebraica ortodossa italiana musulmana albanese che convivono per secoli in questa città la minoranza ebraica di Ragusa anche se piccola ha lasciato tracce significative nella storia della città benché secondo fonti archivistiche la presenza degli ebrei a Ragusa sia stata evidenziata fin dal 1324 in poi fu solo dopo l'espulsione dalla penisola iberica che un consistente nucleo ebraico si stabilì nella città di questa piccola repubblica della quale vediamo il porto con il castello. La città che però ne trasse i massimi benefici grazie soprattutto al porto che era il più grande e movimentato d'Europa fu però Salonico. La particolarità degli ebrei di Salonico era quella di occupare tutte le nicchie economiche non essendo relegati a qualche settore particolare come nei casi invece in cui accadeva nelle città in cui gli ebrei costituivano una minoranza. Lì si ritrova dovunque a tutti i livelli della scala sociale dai facchini del porto ai grandi commercianti. Cosa eccezionale Salonico contava anche un gran numero di pescatori ebrei, caso particolarmente unico che non si ritrova se non in terra di Israele. I primi ebrei arrivarono a Salonico intorno al 140 a.C. da Alessandria ed Egitto, li chiamavano romanioti, parlavano greco ed erano di cultura ellenistica. Nel 1376 si stabilirono a Salonico ebrei aschenaziti provenienti da Ungheria e Germania, poi dalla Provenza e poi dall'Italia. Se nel 1478 Salonico era ancora una città essenzialmente greca e cristiana ortodossa, abbiamo testimonianza che già nel 1519 i cristiani erano ridotti a meno di un quarto della popolazione. Molte chiese erano state trasformate dagli ottomani in moschee. I rapporti dei greci con gli ebrei furono sempre tesi, ma i sefarditi trovarono a Salonico un comodo rifugio ricreandovi una Spagna in miniatura e nel 1941 erano censite in città ben 35 sinagoge. Nell'inverno del 1943 a Salonico, per gli ebrei sefarditi, la comunità più rappresentativa d'Europa presente in città, come abbiamo già detto fin dal 1492 con il decreto di espulsione di Alhambra, scatta l'ora della deportazione nei campi di lavoro di Polonia e di Germania. E se in quello stesso periodo gli ebrei di Dubrovnik furono temporaneamente internati senza eccessivi danni in tre alberghi locali e le vicende occorse non sono del tutto ancora e molto chiare. Ai nazisti basteranno invece solo 157 giorni in quell'estate del 1943 per dichiarare Salonico Judenfrei, città ripulita dal germe ebraico. A gestire il programma di ghettizzazione e di deportazione degli oltre 50.000 ebrei residenti a Salonico di origine giudaica, Adolf Eichmann, uno dei più attivi responsabili dello sterminio degli ebrei da parte della Germania nazista, aveva spedito i capitani delle SS a Salonico, Alois Brunner, austriaco, e Dieter Wisliceni, nato in Polonia, ma tedesco anche lui, due specialisti della soluzione finale che avevano già operato con successo, ma questo successo dobbiamo interpretarlo con molte virgolette, nei territori dell'est Europa. A differenza di molte altre città del vecchio continente, a Salonico non c'era mai stato fino ad allora un ghetto. La parola era ignota ai suoi abitanti. Nel grande centro cosmopolita dell'impero ottomano, lo era diventato, era rientata la capitale nel 1430 in seguito alla caduta di Costantinopoli, greci, turchi, ebrei convivevano nella tolleranza e nell'aicismo, cardini su cui si fondava l'economia del porto, l'economia del ricchissimo emporio e l'intera vita sociale, politica e religiosa della città. A Salonico vi erano semplicemente dei quartieri abitati quasi esclusivamente da ebrei, così come vi erano quartieri abitati quasi esclusivamente da greci o da turchi. Nel 1910 sono censiti 132 mila abitanti, 65 mila ebrei, 35 mila greci e 30 mila fra turchi, bulgari ed etnie minoritarie. La lingua ufficiale era il turco, ma nel commercio, nella vita di tutti i giorni, si parlava in giudesmo o in ladino, dialetti derivati dal castigliano del quindicesimo secolo e dall'ebraico, cui poi si erano sovrapposte espressioni tipiche del greco, dell'italiano, del turco, del francese, dell'arabo, del bulgaro. Tale lingua è stata per secoli il vernacolo usato dagli ebrei di Salonico, di Smirne, di Istanbul, conosciuto e parlato anche dai cristiani e dai musulmani. Fino al più umile Lustra Scarpe, Facchino del Porto, tutti dovevano conoscere almeno le basi di cinque, sei lingue. Fu solo con l'arrivo nel primo ventennio del Novecento di circa centomila profughi greci cacciati dalla Anatolia turchizzata che Salonico smette di essere ebraica. Il giudesmo cede il passo al greco, il riposo settimanale viene spostato dal sabato alla domenica e la vita religiosa venne riorganizzata sulla base delle leggi elleniche. Entrati in città nell'aprile del 1941, i tedeschi avevano subito chiuso i giornali, confiscato le radio, requisito le più eleganti ville per esigenze militari, demolito le sinagoge. A luglio venne firmato un provvedimento che disponeva il lavoro coatto per tutti gli ebrei fra i 18 e i 45 anni. L'11 luglio alle 8, in piazza Elefteria al centro di Salonico, piazza della Libertà, sono i 9.000 gli ebrei uomini che dopo l'umiliazione di doversi esibire in esercizi ginnici, faticosi e degradanti, sotto gli occhi degli ufficiali tedeschi che brindavano e se la ridevano con le loro donne, venivano portati poi a quella che sarà una delle prime forme di deportazione. Verranno smistati infatti per andare a lavorare come schiavi alla costruenda strada fra Caterini e Larissa, oppure nei cantieri ferroviari, in zone infette dalla malaria e da altre malattie per cui molti morirono in quelle circostanze. Per ottenere la libertà di 7.000 persone, la comunità ebraica dovrà versare ai militari tedeschi 2 miliardi di dracme, che per quanto denaro di guerra enormemente svalutato, doveva essere pur sempre una bella somma. Con quel denaro saranno pagati operai greci che di fatto diventeranno schiavi al posto degli ebrei, facendo crescere a tutto vantaggio tedesco il risentimento, il malumore, l'odio ellenico verso gli ebrei. Gli antisemiti greci infatti offriranno volontariamente i loro servigi ai tedeschi e lo stesso governo non si tirerà indietro con la scusa di comodo che i tedeschi non ponevano alternative. Il legale della comunità ebraica di Salonicco, avvocato Yomtom Iacoel, nel 1943, stese in fretta delle memorie prima di essere deportato e morire poi in campo di concentramento. Per quanto riguarda le reazioni della popolazione greca cristiana, la sua impressione fu duplice. A fronte di una sostanziale interessata indifferenza da parte dei cerchi alti della popolazione, delle autorità civili e religiose, preoccupate soprattutto di non dispiacere i tedeschi e timorose anche che la città fosse consegnata ai bulgari, la gente semplice, come spesso accade, si comportò invece in modo compassionevole e solidale. Nel suo secondo libro, La tregua, scritto tra il dicembre 1961 e il novembre 1962, Primo Levi descrive il complicato viaggio che fu costretto a compiere dopo la liberazione per poter fare ritorno a casa. Tra le numerose figure che lo scrittore incontrò e che vengono descritte, una delle più efficaci è quella dell'ex deportato greco Mordo Naum. La scena si svolge in Polonia, nella regione di Cracovia, nel 1945. Il ritratto tracciato da Levi ci offre il quadro di una società di mercanti attivi, dotati di grande senso pratico, consapevoli della violenza di cui la storia è intessuta, ma anche disponibili a interrogarsi sulle più vitali questioni etiche e filosofiche. Una delle figure più inquietanti di questa storia fu quella del rabbino capo di Salonicco dal 1933 al 1945. Zvi Hirsch Koretz, polacco di Cracovia, ebreo aschenazita, persona che viene descritta come un traditore più interessato a salvare se stesso le sue ricchezze piuttosto che il suo popolo, accusato di aver facilitato con zelo e servilismo l'opera dei nazisti. Gli aschenaziti, sono i discendenti delle comunità stanziatesi in Europa centrale lungo la Valle del Reno, di lingua e cultura yiddish, mentre i sefarditi sono gli epigoni dei dimoranti nella penisola iberica, accomunati dalla stessa religione e da identiche radici. La differenza è prettamente geografica, con qualche variante, nelle tradizioni legate alle due diverse comunità. Il rabbino Koretz, che qui vediamo nell'immagine in due fotografie, e lui, nella foto a colori, è l'attore che nel film userizzi Zanis in persona, il rabbino. Il rabbino non incoraggiò fughe ed evasioni, fece di tutto, forse per stupidità, per vigliaccheria, per avidità, per fermare le iniziative di resistenza, con discorsi ottimistici e di fiducia. Nonostante quelli che molti considerano atti di tradimento, la sua fine non fu meno tragica. Morì di tifo nel 1945 in Germania, a 61 anni, dopo essere stato in diversi lager in Europa centrale. Per non destare sospetti ed essere facilitati nella loro operazione, i tedeschi prima rassicurarono gli ebrei di Salonico, dicendo che il loro obiettivo era di cacciare i comunisti che minacciavano l'esercito di occupazione. E poi promisero terre da lavorare in Polonia e addirittura distribuirono sloti falsi o forse sloti veri, ma tolti ai giudei polacchi già passati per i fornicrematori, cosicché fra gli ebrei di Salonico ci fu una corsa a stringere matrimoni fittizi per poter partire prima, in quanto le condizioni dei celibi erano più difficili, erano peggiori di chi aveva una famiglia. Nel 1943 furono 49.000 gli ebrei di Salonico, praticamente tutti, quasi tutti, deportati nei campi di lavoro in Germania e Polonia. Ne ritorneranno solamente meno di 2.000. A ostacolare i programmi di Eichmann e di Himmler a Salonico ci sono solo gli inquilini di Villa Olga, piccolo gioiello di architettura neobarocca eclettica che in realtà si chiamava Residenza Salem e Ikea Salem. Gli italiani la chiamavano Ikea Olga perché si trovava in via Vassilissis Olgas a Salonico e ancora oggi è visibile, è disabitata, è abbandonata e per tutti gli anni 40 è stata, anzi agli anni 70 del secolo scorso è stata sede prima della regia ambasciata d'Italia e poi del consolato d'Italia a Salonico. Questa Residenza Salem che era sede appunto del regio consolato in terra macedone con il console Guelfo Zamboni nel 42-43 cominciò a lavorare ad un piano finalizzato alla messa in sicurezza dei circa 300 ebrei di origine italiana e di quelli greci che lavoravano per le imprese italiane. Un progetto all'apparenza semplice ma anche estremamente compromettente sotto il profilo istituzionale che prevedeva la concessione dello status di cittadini italiani anche creando documenti falsi a quanti più ebrei possibili, connazionali e non. A coaduvare l'iniziativa di Zamboni che sarà poi condivisa e continuata dal suo successore Giuseppe Castruccio che gli succederà nell'incarico nel giugno dello stesso 1943 sarà un piccolo gruppo di connazionali tra cui gli agenti dei servizi informazioni militari SIM, Riccardo Rosenberg ed Emilio Neri e il capitano del regio esercito Lucillo Merci. Quest'ultimo, un quarantenne direttore didattico bolzanino che la guerra aveva catapultato in Grecia, è l'autore di un manoscritto di straordinario interesse storico che apre scenari inediti su quello che dopo più di quattro secoli di esistenza fu il capitolo finale della Gerusalemme dei Balcani. Pochi uomini che al di là delle convinzioni politiche muniti solo delle armi della burocrazia scelgono di agire permettendo a centinaia di ebrei di riparare nelle zone occupate dagli italiani e così forse salvarsi, salvare la vita. Un esiguo manipolo di italiani in una straordinaria storia di umanità che semplicemente non si voltarono dall'altra parte, non furono eroi, semmai furono la migliore espressione di quella categoria di essere che chiamiamo uomini, a dispetto delle atrocità alle quali altri militari italiani non si sottrassero all'epoca dell'occupazione in Grecia, nonostante che gli inglesi soprannominassero beffardamente le truppe italiane armata Sagapo, armata Ti amo, rinfacciando quello che a loro modo di vedere era un'eccessiva morbidezza o incapacità. A svelare l'opera all'interno del consulato italiano non è solo la fitta corrispondenza intercorsa fra le sedi diplomatiche di Salonicco e Atene da un lato e alcuni funzionari del Ministero degli Esteri italiano dall'altro, ma anche le pagine del diario di Lucillo Merci, appunti trascritti con grafia minuta nella tarda primavera del 1983, pochi mesi prima della sua morte, integrati per la prima volta dalle pagine del memoriale scritto 40 anni prima, che la vedova dell'ex capitano del reggio esercito fece poi recapitare in fotocopia nel novembre del 1987 allo Yad Vashem, l'ente nazionale per la memoria dello Shoah di Gerusalemme, istituito appositamente per documentare e tramandare la storia del popolo ebraico durante la Shoah, con l'intento di preservare la memoria di ognuna dei tanti milioni di vittime. Documenti che non solo rivelano la compromettente partita scacchi che tra la primavera e l'estate del 1943 la diplomazia italiana giocò coraggiosamente con le autorità di occupazione naziste, ma aggiungono nuovi tasselli al mosaico delle presunte responsabilità anche degli inglesi, ma di tutti coloro che avrebbero potuto fare qualcosa per contenere la dimensione del massacro, ma non hanno agito. Coraggiosi lo furono certamente questi uomini, ma non giusti. Nessuno di loro infatti fu mai insignito dell'onorificenza di giusto fra le nazioni, nonostante le testimonianze delle tante persone salvate. Furono uomini che, al di là delle personali simpatie politiche e di quello che erano, di quello che erano stati o che rappresentavano, si rifiutarono di essere complici o anche semplici spettatori di un massacro collettivo. Qualche curiosità. Discendenti della comunità ebraica di Salonicco sono tra gli altri l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, il premio Nobel 2014 per la letteratura, il francese Patrick Modiano. Tra l'altro la grande famiglia Modiano possedeva a Salonicco numerosissime abitazioni, numerosissime proprietà che poi dopo la confisca da parte dei nazisti sono stati trasformati variamente in musei o sedi di enti nazionali o anche privati. E' importantissimo anche il grande mercato coperto, il più grande mercato coperto di Salonicco. Oggi piuttosto in disfacimento, in abbandono, anche se è ancora possibile sedersi a qualche tavolino, a qualche caffetteria, a qualche ristorante per poter gustare, soprattutto nei caldi pomeriggi d'estate, una bevanda o un pranzo. La famiglia Carrasso, fondatrice della multinazionale lattiero casearia Danone, ma tanti altri personaggi celebri famosi della moda, dello sport e della cultura in tutto il mondo. Come accennavo all'inizio, ho cercato di approfondire questo argomento particolarmente drammatico della storia greca, ma particolarmente caro anche a me personalmente, dopo aver letto il libro scritto da Iorgos Scambardonis, Useri Zizanis, nella traduzione italiana di Maurizio De Rosa, che ho mostrato prima, col titolo L'ultimo Rebetico, pubblicato dall'editore ETP Books, che peraltro supporta questa iniziativa La Grecità con un click. Ho poi recuperato il DVD del film, omonimo Useri Zizanis, film che oggi è disponibile anche liberamente su YouTube. Questa è la locandina del film, del DVD. E pazientemente, cioè con tanta passione, l'ho tradotto in italiano e poi l'ho sottotitolato, come faccio da un po' di tempo con i film e le serie televisive greche che ritengo più validi e che mi piace condividere con i miei amici che non sanno il greco. Il film è stato girato nel 2015 dal regista Manusos Manusakis e nella versione inglese è stato intitolato Claudi Sunday, Domenica Nuvolosa, con evidente riferimento ad un'altra delle più celebri e più belle canzoni rebetiche di Vassilis Zizanis. Questa nella immagine è Vassilis Zizanis, appunto l'autore del testo, della canzone che ho recitato all'inizio. Era nativo di Tricala, ma ha vissuto per molto tempo a Salonico, poi ad Atene e poi anche nel resto del mondo è morto a Londra nel 1984. Dicevo Claudi Sunday che fa riferimento a quella Sinefiasmeni Chiriachi, Domenica Nuvolosa, che è un altro caposaldo della storia della musica ellenica. Il rebetico è un genere di musica popolare greca che nasce in Asia Minore, ma comunque si sviluppa anche nella Grecia continentale, tra il XIX e il XX secolo. Traendo origine nei bassi fondi della società, tra gente emarginata, che in quella forma narra i propri disagi e le tristezze. La tematica delle canzoni riguarda prevalentemente storie di povertà, di prigione, di droghe, di amore, di problemi sociali, di prostituzione, messe in musica in modo passionale, a volte triste, altre volte ironico o scherzoso e fatalista. L'userì è un tipico locale greco dove si beve l'uso, altrettanto tipica bevanda aromatizzata all'anice. Si mangiano dei piccoli accompagnamenti, formaggio fetta, le sardine sottolie, stuzzichini salati che inducono a bere e si ascolta musica quasi esclusivamente rebetico. In questa immagine vediamo la composizione che ricorda il gruppo di Vassilis Zizanis nella sua userì, appunto la userì Zizanis, ed è una scena del film che prende il nome appunto di userì Zizanis, sono gli attori che rappresentano Zizanis e la compagnia. Vassilis Zizanis appunto al tempo della storia aveva a Salonico un suo locale molto noto e frequentato, anche se piccolino, appunto questa userì Zizanis che si trovava in via Pavolum Mela, dove la sera si esibiva con il suo gruppo suonando il buzuki, tipico strumento a corde, che può somigliare vagamente a un mandolino, ma molto vagamente. In questa immagine invece vediamo Zizanis davanti all'ingresso del suo locale, appunto in via Pavolum Mela al centro di Salonico, dove ogni sera si tenevano concertini e dove molta gente andava soprattutto per vedere lui, per vedere la sua esibizione. Nell'userì di Zizanis si poteva incontrare il comandante Nikos Muscundis, che era il capo della polizia di Salonico, compare di nozze di Zizanis e quindi per i greci un mezzo parente, profondo amante, appassionato, anzi fanatico, conoscitore del rebetico, pare che avesse addirittura una collezione di oltre 5.000 dischi di musica rebetica, di canzoni rebetiche, ma si trovavano anche commercianti del mercato nero, delatori, collaborazionisti, spie, contrabbandieri, amanti del rebetico che appunto andavano ad assistere all'esibizione di Zizanis e anche partigiani in incognito. Ogni sera volavano milioni di dracme di guerra, poco più che carta straccia, lanciati ai municisti per manifestare apprezzamento, un po' come oggi si fa ancora con i petali dei fiori, che a fine serata venivano raccolti con la scopa e con pala e messi in grandi sacchi di tela per poi essere contati. Per necessità narrativa il film è sintetico rispetto al romanzo, che è molto più articolato, mescola vicende storiche realmente accadute, a personaggi veramente esistiti, con la fantasia romanzesca. Lo definirei in breve un film di amore, di guerra e quindi di morte, di musica e di cucina, perché queste storie si intrecciano sapientemente in varia misura, si intrecciano questi quattro ingredienti fondamentali che danno vita ad un mix veramente apprezzabile e soprattutto commovente. Di amore, perché la storia è incentrata sui sentimenti contrastati e proibiti fra un giovane greco cristiano ortodosso, che nella realtà era il cognato di Zizanis, fratello della moglie Zoe, che nel film si chiama Iorgos, nel libro è la voce narrante, ma nella realtà si chiamava Andreas Samaras, e Estrella, diminutivo di Esther, una ragazza ebrea, greca, di origine spagnola, come tutta la sua famiglia, segretamente arruolata nella resistenza. Ma è anche una storia di guerra, perché la vicenda è collocata appunto a Salonico tra il 1942 e 1943, anni in cui gli ebrei furono deportati in Germania e in Polonia, e ne racconta le devastazioni e gli orrori. Di musica e di cucina, perché l'altro protagonista del racconto è Vassilis Zizanis con il suo locale, dove era possibile gustare cibo, bevande, ascoltare la buona musica e la voce della cantante Lella, un'altra sfortunata vittima delle circostanze. Le musiche originali del giovane compositore Femis Karatmuratidis, insieme con i brani storici più celebri di Zizanis, contribuiscono nel film a ricreare un clima di nostalgia e insieme a sottolineare e ad accompagnare la tragicità delle scene. Insomma, un mosaico di rebetico, di intrighi, di amori e di tradimenti, sullo sfondo di una città multiculturale e multiraziale che si accingeva a cambiare pelle per sempre. Gran parte delle notizie, oltre che dal libro di Scambardonis e dal film di Manusakis, le ho tratte dal libro Salonico, città di fantasmi, cristiani, musulmani ed ebrei fra il 1430 e il 1950 di Mark Mazower, un libro pubblicato da Garzanti nel 2007, piuttosto controverso fra gli studiosi, per alcuni punti di vista non sempre condivisibili da tutti, ma che certamente è un'ottima fonte per questa breve chiacchierata introduttiva, non troppo approfondita, che stiamo facendo. Le notizie della ambasciata italiana su Villa Olga le ho tratte invece su Ikea Salem, sono state tratte dal libro di Nico Pirozzi, Salonico 1943, Agonia e morte, della Gerusalemme dei Balcani, pubblicato nel 2019 dalle edizioni dell'Ippogrifo. Anche questo un ottimo libro ricco di notizie, oltre che del diario di cui abbiamo parlato prima di Lucillo Merci. Sono storie che vengono dal passato, ma che toccano lo stesso gli eventi sempre attuali, come il razzismo, la xenofobia, il neonazismo, che oggi minacciano la società italiana, come quella greca e in genere quella internazionale. Nel realizzare questo film, l'obiettivo del regista è stato ricordare quei crimini e quelle storie a coloro che hanno deciso di dimenticarli e di raccontarli a coloro che non li conoscono. Crimini commessi da persone della porta accanto. Mi piace concludere questa breve chiacchierata con le parole del regista Manusos Manusakis durante un'intervista alla presentazione del film. Come essere umano, dice Manusakis, credo che dal momento in cui siamo nati fino alla nostra ultima ora sulla terra, abbiamo un unico dovere, prendere posizioni nei confronti degli eventi, renderci conto che se non facciamo parte della soluzione, diventiamo parte del problema. Nel gennaio del 2020, un anno fa, ho proposto alla mia scuola in occasione della Giornata della Memoria, il liceo Ferraris Quinto Egno, di presentare il film ai ragazzi. Devo dire che ho ottenuto una risposta, non posso dire inaspettata, ma sicuramente molto positiva dagli studenti, che sono rimasti muti ad ascoltare il film, hanno fatto tantissimi interventi. All'inizio ho pensato che lo facessero per evitarsi un'altra ora di lezione, perché poi dovevano rientrare in classe, ma quello che mi ha sorpreso tantissimo è che alcuni di loro mi hanno scritto poi delle mail in cui chiedevano ulteriori chiarimenti, ulteriori spiegazioni su quello che avevano visto e su quello che avevo raccontato. Successivamente ho mostrato il film anche ai soci della mia associazione, il dopolavoro filellenico di Taranto, attività che facciamo abitualmente e anche per loro è stata una sorpresa notevolissima. Per questo motivo sono disponibile a, per gruppi, per associazioni, per scuole, a vedere insieme, a mettere a disposizione, mettere in condivisione il film. Sul canale YouTube della mia associazione, il dopolavoro filellenico, è disponibile ancora il trailer del film, sottotitolato in italiano, come dicevo prima, ci sono tanti diversi film, edizioni del film e del trailer, ma sono in originale, sono in lingua greca. Io ho a disposizione il trailer sul canale, dopo lavoro filellenico, il trailer del film Useri Zizanis con i sottotitoli in italiano, che sono una piccola spiegazione di quello che è il film successivamente. Ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio la società filellenica, in particolare il presidente Marco Galdi e vi saluto e vi do appuntamento per chi lo vorrà alla visione del film. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.